Non pensare di andare via senza che io ti chieda la notizia, la domanda che tutti si pongono in queste ore. Abbiamo letto sui giornali che sei stato nominato tra virgolette tra i possibili candidati del centro-destra. C'è stata una riunione, i candidati ufficiali saranno resi noti a fine ottobre, ma si è fatto il tuo nome come possibile candidato a sindaco di Roma. È vero, non è vero? Ci stai pensando? No, prima ero candidato a Torino, poi scopro Roma e siccome ci saranno anche a Napoli le elezioni, magari la prossima settimana scopriremo Napoli, quindi non lo so. Chi vivrà vedrà. Non rispondi, non rispondi. Salutami Mentana, arrivederci. Ciao, grazie Massimo, buon lavoro.